ciao bentornati quanto tempo è che non andate a controllare la data di scadenza dei farmaci che avete a casa perché sicuramente in ogni casa dell'italiano medio ci saranno cassetti pieni di medicine che vengono comprate per essere utilizzate in quella determinata situazione quel determinato momento e poi fortunatamente non prese più verranno riprese soltanto quando ci sarà di nuovo quell'esigenza e il più delle volte si può rischiare di prendere farmaci o integratori fitoterapici che sono scaduti quindi il mio consiglio è andate a controllare le scadenze almeno due volte l'anno perché il prendere farmaci scaduti o fitoterapici scaduti può avere un duplice effetto o quello di non essere efficaci e quindi per determinate patologie potrebbe essere anche pericoloso oppure di virare di modificare l'azione che quel principio soprattutto fitoterapico può avere ed essere dannoso per la salute quindi mi raccomando occhio alle scadenze e andate a fare un bel po di pulizia perché a volte in tutti gli ambiti e anche in questo caso nell'ambito delle medicine è veramente importante fare pulizia nella propria vita delle cose che possono essere dannose o inutili ciao noi ci vediamo nel prossimo video